Il dibattito pubblico sul progetto per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria per il sublotto Battipaglia-Romagnano inizia a raccogliere le prime contestazioni da parte dei cittadini e degli imprenditori che hanno scoperto di essere proprietari di terreni da espropriare e quindi di case o aziende da abbattere. Qualcuno di loro ha già fatto sapere che presenterà ricorso. Un aspetto questo che è venuto fuori in maniera più evidente nei primi due incontri pubblici in presenza per la presentazione del progetto, incontri che fino ad oggi si sono svolti online. Le prime due assemblee live si sono tenute a Contursi Terme e Campagna, due dei comuni del Salernitano che saranno interessati dalla Battipaglia-Romagnano. Una nuova tratta destinata a servire il percorso ferroviario verso Taranto e poi la nuova linea che dovrà attraversare il Vallo Lidiano e il Lago Negrese per poi raggiungere Praia Mare. Quello che è venuto fuori è che dovranno essere demolite quattro strutture e un capannone nell'area Pippa a Contursi e una ventina di abbattimenti saranno eseguiti a Campagna. Una notizia che ha generato tensioni. I tecnici di RFI hanno spiegato che saranno realizzati una serie di gallerie e viadotti fino a raggiungere Romagnano ed hanno provato a dare una spiegazione anche agli interrogativi di carattere ambientale perché il nuovo tracciato interesserà anche la riserva naturale Seletanagro ed altre aree soggette a rischio idrogeologico. Quello che sta venendo fuori dai dibattiti pubblici sull'alta velocità ma in maniera velata è che le intenzioni di RFI e del Ministero è di realizzare l'opera così come è stata progettata. Sono davvero minime le possibilità che la Battipaglia Romagnano non venga costruita. È l'unico tratto finanziato dal PNRR e deve essere funzionale entro il 2026 ma come è facile prevedere non sarà semplice più che la politica a contrastarlo veramente per il momento sono i cittadini e gli imprenditori interessati dagli espropri. Qualcuno continua a chiedersi se sia opportuno intaccare un vasso territorio per realizzare una rete ferroviaria ad alta velocità che ridurrà i tempi di appena 20 minuti.